pesaro converge il fondo anticrisi sull'emergenza casa candidato a sindaco le linee di azioni dell'epd anas dice ok alla guinza cantiere a fine 2024 mostra del cinema rush finale con ferretti verdone e tornatore ital service il nuovo allenatore e fausto scarpitti una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di venerdì 23 di giugno apriamo occupandoci di una azione amministrativa annunciata oggi dal comune di pesaro che riconosce nell'emergenza a casa una delle emergenze con la e maiuscola del nostro territorio anche a causa del venir meno di alcuni fondi governativi dunque dopo carobollette e agevolazioni all'atari che erano state sulle quali si era intervenuto un anno fa il comune decide quest'anno di convergere le risorse del fondo anticrisi sugli aiuti agli affitti vediamo il comune di pesero decide di stanziare 250 mila euro del fondo anticrisi sull'emergenza casa e nello specifico sull'aiuto al pagamento degli affitti in favore di 730 famiglie pesaresi in difficoltà questa è la decisione annunciata oggi dal sindaco matteo ricci dagli assessori di riferimento pandolfi e nobili alla luce di un'emergenza crescente ulteriormente mutilata dagli aiuti governativi che hanno tagliato il fondo sul caro affitti all'interno della legge di bilancio 2023 risorse anticrisi comunali che un anno fa andarono al caro bollette al sostegno latari ora prendono dunque un'altra strada le risorse le prendiamo dal fondo anticrisi che è un fondo che ogni anno mette a disposizione il comune e che si confronta poi con i sindacati per vedere quella che è anche l'emergenza e il bisogno di ogni anno oggi abbiamo deciso di metterla nella casa perché la casa è un'emergenza ma anche perché ci troviamo che quest'anno le risorse del fondo affitto nazionale che venivano regate tutti gli anni e si aggiravano intorno ai 570 mila euro non saranno riconfermati quindi sono 1100 persone e famiglie che avranno bisogno di un sostegno quindi diciamo nel nostro piccolo oggi investiamo lì avevamo già in programma di investire nell'atari ma l'emergenza oggi è la casa. Il comune ha fatto come sempre la valutazione e mentre l'anno scorso abbiamo messo risorse importanti per far fronte alle esigenze legate alle bollette quindi pagare e contribuire pagando tre rate dell'atari dei cittadini pesaresi con 470 mila euro quest'anno i 250 mila li abbiamo messi per dare risposta alle famiglie legato agli affitti. L'anno scorso erano 1100 famiglie perché il fondo aveva cifre importanti noi con i 250 mila euro arriveremo a stimata a 730 famiglie dove il contributo che daremo massimo è di 350 euro ed è proporzionale anche all'affitto che viene diciamo che la famiglia deve sopportare e pagare quindi massimo 350 e la stima è 730 persone alle quali daremo una risposta. Fondo anticrisi che si accoda ad una molteplicità di azioni già intraprese sull'emergenza casa. Sono già quasi 140 persone che sosteniamo con 66 mila euro che abbiamo erogato da gennaio questa è un'operazione che tende ad evitare che le persone siano le famiglie sfrattate quindi si trovino improvvisamente per strada. C'è anche un'operazione che rinnoviamo tutti gli anni come il canone concordato che dà agevolazioni ai privati che affittano perché c'è una riduzione dell'IMU dal 10 e 6 credo di ricordare al 5 e 25 e blocca il canone per chi deve pagare quindi è un'operazione molto importante che risponde intorno a 1000-1100 canoni vengono fatti come canone concordato e sono il 90% di tutta l'attività degli affitti del mondo del privato. Il bando del fondo affitti uscirà a metà luglio e sarà pubblicato sul sito del comune di Pesero. Potranno accedervi chi ha un ISEE non superiore all'importo dell'assegno sociale anno 2023 pari a 6.542 euro. Nel frattempo si rinuncia ora al sostegno al pagamento della Tari con l'impegno però di destinarvi risorse successivamente. L'intenzione mia e del sindaco, visto che io l'avevo già detto che era mia intenzione mettere queste risorse del fondo anticrisi per la Tari ma ci sono state altre necessità, l'impegno è quello di lavorare sul bilancio di previsione che andremo ad adottare entro fine anno per mettere risorse nell'anno nuovo mettere già ben definite con una cifra e una destinazione ben precisa che dovrà essere la Tari. Bisognerà aspettare la fine del 2023 per comprendere chi sarà il candidato a sindaco di Pesero per il centro-sinistra dopo Matteo Ricci che andrà a fine del suo doppio mandato. Queste le azioni del Partito Democratico, linee azioni del Partito Democratico che ci vengono illustrate da Giampiero Bellucci, segretario comunale del PD di Pesero. Il PD ha già avuto dei momenti di confronto e di discussione in assemblea comunale in segreteria comunale in cui si è delineato appunto questo percorso che stiamo facendo dei laboratori tematici che serve per connotare l'azione politica che è stata che è e che sarà del Partito Democratico a livello amministrativo. L'individuazione del candidato sindaco sarà in una fase successiva in cui ci confronteremo come partito sull'individuazione della persona in grado di portare avanti queste problematiche e che raccoglierà il consenso di tutto il partito. Dopodiché apriremo un confronto con le altre forze della coalizione con le quali se il tema sarà individuare il candidato sindaco con una primaria, per noi non ci sono problemi, altrimenti valuteremo insieme se ci sono le condizioni di un'individuazione collettiva. Per cui all'interno del PD, per riassumere, cerchiamo di trovare il consenso unanime sulla persona più rappresentativa che raccoglie il giudizio positivo di tutto il partito, come coalizione apriremo una discussione e siamo aperti al contributo di tutti, se primarie devono essere, primarie siano di coalizione. Vi siete dati una tempistica per individuare questo profilo? Fino all'inizio dell'autunno andiamo avanti con questi percorsi tematici, poi nell'autunno cercheremo ulteriori momenti di verifica e di approccio programmatico e tematico che faremo all'interno degli organi del partito, ovviamente contemporaneamente a questa apertura di discussione con le altre forze politiche e civiche che già stanno collaborando in questa giunta o con le altre che vorranno aggregarsi. Passi avanti concreti sulla incompiuta della guinza. ANAS ha infatti approvato il progetto relativo all'adeguamento della galleria e al tratto fino a mercatello sul metauro dell'AE78 Fano Grosseto, un passaggio chiave per sbloccare i lavori attesi da 40 anni per collegare in orizzontale l'Italia centrale. Un altro passo avanti dopo lo stanziamento del CIPES del 27 dicembre scorso di 150 milioni di euro. Ora manca solo un ultimo passaggio prima di passare alla gara, ovvero l'ottemperanza alla via da parte del Ministero dell'Ambiente e la firma del commissario Massimo Simonini. Il progetto torna anche quello originario a quattro corsie. Prossima tappa, la gara per l'appalto dei lavori per l'adeguamento della galleria, lavori che si contano di far partire entro la fine del 2024. Tentato furto questa notte al bar Art Caffè di Via Curie, l'impieno centro storico a Pesaro. Alle ore 4.07 è infatti giunto una segnalazione d'allarme alla centrale operativa della Vigilar. La pattuglia inviata sul posto ha riscontrato una porta d'ingresso forzata e ha subito allertato i carabinieri e la proprietaria dell'attività. Il sopralluogo sul posto delle forze dell'ordine ha consentito di rilevare che non è stato sottratto nulla anche grazie al tempestivo intervento della vigilanza. È un rush finale da Oscar, quello per la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Ieri ha infatti fatto tappa in città lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, oggi ci sarà Carlo Verdone e domani la chiusura con Giuseppe Tornatore. Arriva il gran finale della mostra del cinema di Pesaro in una 59esima edizione che sta riscuotendo consensi e grande partecipazione di pubblico. Gli ultimi due giorni accenderanno i riflettori sui due big assoluti del cinema italiano. Questa sera, venerdì 23 giugno, arriva un monumento della commedia come Carlo Verdone che alle 21.30 sarà protagonista in Piazza del Popolo di un incontro moderato da Barbara Sorrentini e del direttore del Pesaro Film Festival Pedro Armocida prima della proiezione di Borotalco, pellicola diretta dallo stesso Verdone a 40 anni dall'uscita nelle sale. Il sabato sarà invece il giorno del regista Giuseppe Tornatore al quale è stato dedicato l'evento speciale di questa edizione del festival con la proiezione di tutti i suoi film che domani 24 giugno vedrà anche alle 10 di mattina la presentazione della personale monografia negli spazi del Centro Arti Visive Pescheria. Un sabato che culminerà alle 21.30 con Tornatore in piazza che incontrerà il pubblico prima della proiezione di Nuovo Cinema Paradiso Oscar come miglior film straniero nel 1990. Di Oscar ne ha vinti ben tre lo scenografo Dante Ferretti al centro ieri del giovedì del festival culminato con la proiezione di Ugo Cabret. Ferretti ha presentato a Pesaro anche Immaginare Prima, l'autobiografia di un grande artista partorito proprio dalla regione Marche. Io sono contento di essere nato qui nelle Marche, non so perché, comunque sono contento, soprattutto sono contento perché me ne sono andato, me ne sono andato per fare il cinema, non è che me ne sono andato perché non mi piacevano le Marche, le Marche trovo che sia una regione meravigliosa. Ferretti ha anche stilato il podio dei registi con il quale si è espresso al massimo della carriera. Sono tre, Pasolini Fellini e Scorsese. Dal cinema alle note oliveriane, il festival musicale organizzato da Biblioteca e Musei Oliveriani che è pronto a partire con la sua sesta edizione. Anche quest'anno l'evento di Note Oliveriana siamo riusciti di nuovo a organizzarlo, questa volta, come dicevi, appunto la sesta edizione. È per noi una bella soddisfazione riuscire a proseguire anche nel 2023 la rassegna di Note Oliveriane. Quest'anno la modalità è più o meno la stessa, cioè ci sono i soliti concerti che vengono realizzati nel cortile di Palazzo Elmerici, quindi della Biblioteca Oliveriana, tranne un'eccezione che abbiamo pensato di far svolgere nella nostra Sala dello Zodiaco perché avrà come protagonista uno strumento particolare, il virginale, che ha bisogno di un ambiente, diciamo, più raccolto e quindi abbiamo deciso di farlo in orario pomeridiano e nella nostra Sala dello Zodiaco. Lo suonerò in un virginale che è uno strumento antico da tasto e appartiene, è stato realizzato dalla famiglia Ruckers che era una famiglia molto rinomata di scuola fiamminga e quella che ho io, ovviamente, è una copia dell'originale ed è lo strumento più piccolo in assoluto, quindi quando sarà il momento di fare la presentazione ovviamente se ci saranno dei problemi verrà amplificato un pochino perché è un suono molto bello ma tanto bello quanto delicato. Il resto del programma è più o meno in linea con quella che è la filosofia di questa nostra rassegna cioè quello del rapporto stretto tra le nostre fonti, la storia, quindi anche locale pesarese e le esecuzioni musicali. Non a caso due dei concerti, degli eventi parte proprio dallo studio dei nostri fonti, dei nostri documenti che poi raccontano anche delle storie di musicisti pesaresi in realtà molto poco conosciuti quindi anche per noi questa è un'occasione per far conoscere qualcosa di meno usuale rispetto ad altre manifestazioni. Allora, il nostro spettacolo, dico nostro perché appunto è frutto di una concertazione tra me, la mia collega Anissa Guisi ed Alessandro Pertosa che è un filosofo e scrittore si svolgerà su un nodo particolare quello che poi dà il titolo all'opera delle segrete corrispondenze fra che cosa? Siamo al Museo Oliveriano ci sono qui reperti dalla storia romana, italica, etrusca e quindi abbiamo voluto, come sempre facciamo fare qualcosa ad hoc per questo e quindi abbiamo scelto di narrare attraverso varie forme quindi la poesia, la prosa e la musica narrare che cosa? Narrare il femminile all'interno di queste culture che poi sono diciamo anche nel nostro DNA e quindi come facciamo a raccontare questa cosa? Evocando chiaramente attraverso le voci attraverso la musica un po' di elettronica e attraverso delle figure anche che attualizzano questa carica diciamo di vita che è il femminile all'interno della nostra antichità e in certo senso anche all'interno di noi stessi Ed ora una segnalazione dell'Associazione Piattaforma Solidale che denuncia una lesione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità motoria grave generata dalla presenza di una inammissibile barriera architettonica presente all'ingresso della farmacia interna dell'ospedale di Pesaro in via Alfano Alla farmacia è possibile infatti accedere solo attraverso due rampe di scale e la porta di accesso non è abbastanza larga per il passaggio di una carrozzina tutto questo ha aggravato dalla non esistenza di ulteriori passaggi d'accesso Torna il rituale del sostizio d'estate con l'alba di San Giovanni Domani saranno tanti pesaresi che si ritroveranno alle 5 e un quarto di mattina per il rituale estivo del sorgere del sole un'alba che sarà accompagnata dal quartetto saxofonì degli allievi del conservatorio dalla palla di pomodoro al castello di Novilara altra alba domenica 25 giugno quando alle 5 di mattina si esibiranno i musicisti Giulia Coschiera, Riccardo Menighini e Chiara Cicognani Gradara città simbolo degli innamorati aderisce alla notte romantica dei borghi più belli d'Italia in programma sabato 24 giugno data in cui la Rocca sarà eccezionalmente a ingresso gratuito dalle 19 a mezzanotte in particolare alle 19.30 sarà presentato il volume Gli amori sprecati di Aurora Bagnalasta che dialogherà con lo scrittore e regista Federico Moccia celebre autore di Romanzi Rosa che ha firmato anche la prefazione di questo volume serata che proseguirà le 21.30 con Passione e le storie di Giustino uno spettacolo di narrazione in musica a cura di Marco Giulio Magnani con Monica Moroni e Raffaele Bifulco 16 appuntamenti permetteranno anche al municipio di Monticicardo di vivere un'estate da capitale a partire da questo fine settimana con la nuova fiera di San Teorosia in programma sabato e domenica bancarelle, produttori artigiani e esibizioni musicali, presentazioni di libri gare di boccia alla lunga giochi con l'oratore Don Bosco merende e giochi per bambini sabato 24 la giornata si concluderà con il Monticicardo 70.0 in Piazza Europa con la musica anni 70 dei Babel domenica 25 alle 9 di mattina sarà dato il via anche alla prima cicloturistica Ramp Ciccardo serata che si concluderà con il concerto dei Persistono ed ora vediamo alcune notizie di sport ieri è arrivata l'ufficialità su Maurizio Buscaglia nuovo allenatore della VL oggi vediamo quella del nuovo allenatore dell'Ital Service di Calcio A5 sarà Fausto Scarpitti infatti a ereditare la panchina di Fulvio Colini e Davide Barniesi diventando il nuovo tecnico della società del presidente Lorenzo Pizza 48 anni originario di Sernia Scarpitti ha guidato in stagione il Real San Giuseppe vincendo la Coppa Italia proprio in finale contro l'Ital Service arriva a Pesaro dopo aver ben figurato anche sulle panchine di Matera Acqua e Sapone e Sandro Abate dal calcio 5 al football americano perché i Ranocchi Angels domenica alle 16 giocheranno a Catania la finale della Conference Sud contro gli Elephants è una partita che darà l'accesso al Nine Ball dall'altra parte se la giocheranno Castelfranco Cavaliers e Bengals Brescia ovvero le migliori squadre della Conference Nord le due vincenti si ritroveranno di fronte il 7 luglio a Reggio Emilia e chi vince sarà promosso in Serie A2 e in questi giorni sono anche tanti gli appuntamenti dedicati allo sport giovanile a cominciare dall'esercito di giovani reggbisti che da oggi ha cominciato ad affollare la spiaggia di Baia Flaminia per il tradizionale appuntamento con il mini beach rugby da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio si saranno 8 categorie che si sfideranno di squadre di 45 squadre che si sfideranno sulla sabbia di Baia Flaminia praticamente sabato pomeriggio inizieremo con under 13 under 15 under 17 una tappa del torneo nazionale Beach Seniors domenica mattina invece giocheranno i bimbetti i bambini dall'under 5 fino all'under 11 quelli sono il gruppo più numeroso perché vengono da 6 regioni d'Italia vengono dalla Grecia vengono dalla Francia si sfideranno sotto il sole mi auguro dalle 8 e mezza fino a che non finisce praticamente fino a verso l'una e poi faranno tutti insieme il terzo tempo poi si faranno un pomeriggio prima di partire verso le loro case godendo del nostro mare la peculiarità di questa manifestazione che facciamo da anni in Baia Flaminia praticamente è il fatto di poter stare con la propria tenda per due giorni per due notti godere dei vantaggi di questa zona del nostro comune dell'ente parco che ci concedono l'utilizzo assolutamente straordinario per poter ospitare questi bimbi questi ragazzi per fargli godere due giorni di mare di spiagge di gioco e di socialità è un'iniziativa che promuove e valorizza quelle che sono le caratteristiche della nostra città una città che vuole vivere di sport è una città che ha il mare quindi diciamo due elementi che si sono uniti in questa location fantastica che è quella di Baia Flaminia poi in questi giorni avranno anche la possibilità di vedere il tramonto sul mare quindi meglio per una promozione cittadina a 360 gradi una città che si appresta a essere nel 2024 capitale italiana della cultura anche quello che vogliamo promuovere quello della sostenibilità della cultura sportiva quindi tutti elementi che grazie alle formiche rugby riusciamo a mettere insieme un'iniziativa che sosteniamo con grande impegno grande interesse grande passione perché in questo evento e come in tutte le attività che le formiche fanno costantemente e quotidianamente ci sono dei valori di socialità importanti ricordo non so se è già stato ricordato prima l'evento anzi l'iniziativa il progetto Rugby che abbiamo promosso insieme alle formiche rugby come amministrazione comunale un progetto che ha dato anche delle collaborazioni delle nuove amicizie tant'è che in questo evento ci sarà anche Patrasse una delle città che avevamo ospitato l'anno scorso con Rugby un progetto che voleva promuovere e valorizzare il ruolo dello sport nello specifico quello del rugby come vitamina contro il bullismo e da rugby al ciclismo giovanile perché Valle Foglie sarà domenica terreno di gara per il sesto trofeo Giovani Promesse che partirà dalla frazione di Bottega più di 120 chilometri percorrendo in bici diversi paesi dalla vallata del Foglia il sesto trofeo Giovani Promesse nonché la gara ciclistica per la categoria Juniores darà vita domenica 25 giugno ad una competizione ardua sin dalla partenza prevista alle 15 nel centro di Bottega traguardo che sarà tagliato nello stesso punto dopo che i giovani ciclisti avranno percorso 10 giri di 9,3 km l'uno e poi gli ultimi due dalla lunghezza singola di 13,8 km una gara che si svilupperà su diversi dislivelli da Montecchio a Padiglione passando per Colbordo le Talacchio più di 100 ciclisti che parteciperanno abbracciando 16 diverse società provenienti da Marche Umbria Emilia Romagna Abruzzo Puglia e Campania i primi 90 km in un falso piano poi alla fine perché non è proprio semplicissimo quindi un circuito da ripetere 10 volte e con questi leggeri saliscendi ma che alla fine sono impegnativi per poi arrivare fino a su agli ultimi due giri per arrivare su a fare la salita di Talacchio fino a arrivare a Colbordo dove ci sarà anche un gran premio della montagna e quindi gli ultimi due giri che sono decisamente impegnativi perché anche perché questi ragazzi come dico essendo juniors sono i futuri campioni per cui ci piaceva un attimino e ci piace ci è sempre piaciuto fare un circuito dove ci sia qualche particolarità dove il campione se vuole viene fuori e qui possiamo dire che i campioni nel tempo ce ne sono stati già da tanti anni fa ma anche adesso i campioni che hanno vinto qui o sono arrivati nei primi tre sono alcuni sono già nel giro della nazionale e qualcun altro è già diventato campione del mondo e dei direttanti si parte si va verso Montecchio quest'anno e si sale su si va verso la zona del piano del bruscolo zona di zona industriale di Talacchio e si ritorna a bottega e questo lo facciamo per dieci volte poi invece dalla zona industriale si sale per Talacchio e Colbordolo siamo molto orgogliosi nel nome di Leandro Romani che è stato un grande organizzatore del ciclismo nel territorio di questa provincia per il circuito degli assi sul mondo di Colbordolo le corse diciamo del giro della provincia di Piso Urbino le tappe del giro d'Italia insomma è stato un grande organizzatore questa è una tappa fatta apposta su misura per Vallefoglia Vallefoglia in parte il territorio di Tavuglia è una bella gara e sono tutti giovanotti che poi diventeranno diciamo dilettanti poi professionisti si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sul nostro canale 80 in questa serata subito dopo il TG approfondiremo ulteriormente anche la notizia che vi abbiamo dato poco fa attraverso la puntata A come Angels ricordiamo domenica gli Angels saranno in finale di conference a Catania si tratta questa della sesta puntata del programma dedicato al mondo del football americano e per quello che riguarda appunto le vicende degli Angels l'appuntamento come detto alle 20 e poi le repliche anche domani alle 9.15 alle 21.40 e domenica alle 11.30 e alle 16 a seguire alle 21.20 una prima serata dedicata alla solidarietà o meglio ad una giornata insieme a sostegno dei bambini quella che è avvenuta nei giorni scorsi a Gabice Mare in un evento organizzato dal Lions Club distretto 108A che ha completato una raccolta a fondi per acquistare e donare apparecchiatura destinata alla diagnostica dell'oncologia pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la lettura di quotidiani locali Buongiorno Rossini rassegna stampa che per l'occasione sarà condotta dal nostro Antonio Astuti e invece si chiude qui questo spazio informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti